Salve! Con questo tutorial apprenderemo come usare il sito pixabuy.com. Da un browser, nella barra degli indirizzi, digitiamo pixabuy.com. pixabuy.com offre immagini e video liberi dal diritto d'autore, ossia con licenza Creative Commons. Pertanto è possibile scaricarli, modificarli, distribuirli e usarli in modo del tutto gratuito, anche per uso commerciale. Il sito in questo momento si presenta in italiano, ma se volessimo cambiare la lingua, basta scorrere in basso, selezionare il menu Language e selezionare la lingua di nostro interesse. Per cercare un'immagine, nella barra di ricerca, digitare la parola chiave da noi cercata, per esempio studente. Prima di avviare la ricerca, osserviamo che possiamo definire una serie di opzioni. Selezioniamo il triangolo rivolto verso il basso e, per esempio, decidiamo di voler ricercare tutte quelle immagini di tipo vettoriale. Non ci interessa l'orientamento, mentre ricerchiamo quelle immagini che appartengono alla categoria educazione. Per quanto riguarda il colore di sfondo, utilizziamo quello trasparente, richiediamo quello trasparente. Avviamo la nostra ricerca. Osserviamo che in questo sottomenu vengono riportate le scelte da noi effettuate. Sono presenti due pagine di immagini. Selezioniamo, per esempio, la seguente immagine. Sulla sinistra viene riportato che è libera e possiamo utilizzare queste immagini anche per usi commerciali e non è richiesto addirittura di nessun tipo di attribuzione. Possiamo a questo punto provvedere al download. È possibile il download senza essere iscritti al sito, solo quella di S, quindi small, oppure medium. Ma se noi volessimo scaricare l'immagine originale, per esempio in questo caso 1161x1920 pixel, in questo caso è obbligatorio la registrazione al sito. Dopodiché provvedere al download. Volendo scaricare l'immagine media, ci richiede di inserire un codice per dimostrare che non siamo un computer e scarichiamo la nostra immagine. Buon lavoro!